E torniamo a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, dove c'è la nostra Lucilla Masucci che ci racconta le ultime novità sulla scomparsa di Mimimmanzo, perché in questi ultimi giorni c'è stata una accelerata alle indagini. A te Lucilla, dove sei in questo momento? Io sono su un balcone di una casa privata, perché voglio farvi vedere due telecamere. Questa è la prima e l'altra è quella sul tetto. Guardate, adesso basterà un movimento della telecamera per farvi capire perché sono importanti queste telecamere. Perché insistono sulle due strade sulle quali sono ripartite le ricerche di Mimimì, esattamente dove Mimimì scompare un anno e mezzo fa. Che cosa hanno visto quelle telecamere in quelle sere? Ebbene, secondo la Procura hanno visto qualcosa di diverso da quello che i ragazzi hanno raccontato. Quindi in queste telecamere ci potrebbe essere la risposta alle mille domande sulla scomparsa di Mimimmanzo. Allora Lucilla, andiamo a rivederle queste immagini nel servizio. Intanto la regia con Salvatore Perfetto qualcosa già ci sta mostrando, ma dopo tu ci devi raccontare che cosa direbbero davvero queste immagini, perché andrebbero a contraddire soprattutto la versione di due degli indagati. Vediamo. È in questo fotogramma che racchiuso il mistero di Mimimì e qui, nel video di questa telecamera, che si cerca la risposta a tutte le domande sulla scomparsa dell'uomo. Un occhio elettronico che riprende due strade, via Marconi e via Annunziata. Le due vie su cui gli inquirenti hanno puntato nei giorni scorsi le nuove ricerche. Il ritrovamento di alcuni indumenti tra le sterpaglie della vecchia ferrovia aveva riacceso le speranze di avere una traccia di Mimì, una maglia, un paio di pantaloni e un calzino avevano attirato l'attenzione degli investigatori, ma i figli dell'uomo non hanno riconosciuto quegli abiti. Quindi diventano importanti quei filmati, quel video in particolare, quel frame in cui si vede solo un gran viavai di auto di quella sera. Proprio in via dell'Annunziata, lì dove Loredana dice di aver investito un cane, e sempre in quella via dove i ragazzi raccontano di aver cercato in lungo e largo l'uomo. Ma l'occhio di questa telecamera racconta altro. Quello che vede stride col racconto dei ragazzi. Di Mimì, lì non c'è traccia. Perché quella telecamera non lo vede? È salito su un'auto? Qualcuno lo ha investito prima? Oppure Mimì è tornato indietro? Eccolo, la sera della scomparsa. È l'ultima immagine ripresa da una telecamera sulla strada. Ma non è in realtà l'ultimo frame di quella serata che lo ritrae. C'è un'altra telecamera, infatti, che riprende Mimì mentre cammina. Un video di cui però non c'è più traccia. Quell'immagine di Mimì è fissata solo nel racconto di tre testimoni che hanno visionato quel video ripreso dalle telecamere di un ristorante. Venimmo qua, ci mettiamo alla coppa e vediamo che effettivamente passò Mimì, era Mimì, al 100%. Era verso le 10 e camminava di qua e scendeva, e camminava sull'altro posto del ristorante. È arrivato all'incrucio, sembrava che svoltava a sinistra verso l'Annunziata, però giro a destra e poi non l'abbiamo visto più. Mimì girò a destra, verso la ferrovia in disuso e non verso la chiesa dell'Annunziata. Che cosa hai visto in quell'immagine Mimì? Sono Mimì che camminava, stava bene col giubbino, se aveva il giubbino chiaro, se non mi sbaglio, i jeans ce l'aveva addosso, e camminava normalmente come una persona... No, non è che... non mi sembrava che barcollava, assolutamente, sembrava una persona lucida. Camminava normale, normale. Il ristoratore, con altre due persone, vede quindi Mimì girare verso la stazione. I ragazzi, invece, raccontano di averlo cercato a sinistra, verso via dell'Annunziata, lì dove c'è questa telecamera. Ed è proprio in quelle immagini che i carabinieri hanno riscontrato incongruenze nei racconti dei ragazzi. Troppe cose non tornano, troppe bugie. Il loro racconto non corrisponde a ciò che si vede in quei filmati. Ed è proprio lì che ora si cerca la chiave per risolvere il giallo sulla scomparsa di Mimì. Peraltro, tante auto in giro quella sera e c'era il lockdown. Esatto, ma bugie e incongruenze. Lucilla? Ragazzi, dobbiamo veramente guardare con attenzione. Allora, avete visto, ci sono delle auto, ci sono delle auto che passano. Ci sono circa dieci auto, i cui movimenti vengono registrati tra le nove di sera e le tre del mattino. Che cosa vedono e che cosa non vedono? Intanto parliamo di testimoni. Allora sarebbe importante se le auto che non c'entrano con la scomparsa di Mimì si facessero avanti per dire che cosa hanno visto perché insistono su via della ferrovia, come la chiamano qui. Guardate, vedete i binari. Ci siamo stati per fare delle ricerche, delle ricerche di Mimì, per l'appunto. Ecco, questa è via Marconi e da questa strada escono delle auto. Guardare su questa strada dovrebbe essere entrato Mimì perché dicono tre testimoni di averlo visto girare in questa via. Ecco, Lucilla, per aiutarci chiediamo alla regia anche di mostrare una cartina di dove sei per capire i movimenti. Ecco, continua il tuo racconto. Eccola. Ecco, allora, intanto voglio chiamare con me, scusatemi, devo assolutamente avere qui con me Davide perché Davide è il primo, abita in questa casa, era alla festa di Romina e dice agli amici io ho delle telecamere, delle telecamere che proprio che danno sulla strada dove è sparito Mimì. Venite a vederle, giusto Davide? Chi viene per primo a vedere queste telecamere? Il primo Loredana è Francesco Manzi, il figlio di Mimì. Loredana oggi è indagata, quindi viene e vede, vede. Hai visto quei fotogrammi che abbiamo di quella sera? Vieni, chiedo all'operatore di avvicinarsi. Ci fanno vedere delle auto. Forse c'è anche l'auto di Loredana che, ripetiamo, oggi è indagata ed è lei a vedere queste immagini per prima, prima che vengono consegnate ai carabinieri. Qual è la cosa che colpisce di più? Ve lo dico brevemente. Guardate quest'auto che sta entrando. Approfittiamo dell'auto che sta entrando qui, a Via Marconi. C'è un incrocio lì dove vedete quelle tende verdi. A quell'incrocio accade qualcosa, perché quello è un incrocio buio, buio per le telecamere. Mimì potrebbe essere sparito proprio lì, perché sì, lo vedono girare su Via Marconi, la via della ferrovia, ma nessuno vede se Mimì torna indietro, verso via dell'Annunziata. A via dell'Annunziata invece si vedono moltissimi movimenti, anche nei filmati che vi abbiamo mandato e che sono in possesso della procura. Si vedono delle auto muoversi in maniera strana, che cosa intendo? In maniera diversa da quello che raccontano i ragazzi che oggi sono indagati. Su quella sera, raccontano dei movimenti che non corrispondono alle telecamere. Lucilla, se non mi sbaglio, anche Davide era alla festa quella sera, era con i ragazzi quella sera, per chiedere anche a lui in pochi secondi che idea si è fatta della sorte di Mimì. Quella sera io stavo alla festa di Mimì, però stavo con la mia ragazza nella camera di Romina e poi Romina andò in bagno, che bisticciò con il padre. Una litigata violenta, raccontaci Davide. Una litigata abbastanza movimentata, parolacce e robe varie. E poi Mimì se ne scese giù e io che stavano arrivando i carabinieri di Prato la Serra, perché era il periodo del coprifuoco, e io preso dalla paura che mi facevano la multa, io e mio cugino ce ne siamo scappati. Quindi loro sono andati via alle 10, tutto accade dopo le 10 perché Mimì esce in quel momento. Davide ce lo devi dire, perché eri presente? A quella festa si fumavano sostanze? Allora, a quella festa si consumavano sostanze come marijuana, perché l'odore si sente, però se devo dire altre sostanze non ne sono sicuro. Lucilla? Secondo te è verosimile, perché si è arrabbiato Mimì? Cioè, chiamiamo questo, perché Mimì si arrabbia quella sera? Allora, per come è stato raccontato a me, Mimì si arrabbia perché Mimì era un tipo molto pulito e nella casa era abbastanza sporca perché comunque stavano pezzi di parmigiana per terra, patatine, abbastanza in disordine. Secondo te è verosimile, Davide, tu sei un ragazzo intelligente, secondo te Mimì può essersi arrabbiato per la parmigiana di melanzane a terra oppure per altro? Penso si è arrabbiato anche per il fatto del coprifuoco, che non voleva tante persone a casa sua e anche perché si fumava. E poi abbiamo visto che però coprifuoco, nonostante coprifuoco, tante auto giravano, ci sono tante incongruenze che in questi momenti stanno provando a ricostruire gli inquirenti, tanto che nelle prossime ore sembra che verranno convocate altre persone o le stesse persone proprio in procura. Grazie Lucilla Masucci, grazie Davide.